Allora, Gli infallibili viene dalla serie Gli infallibili 3, il proseguo della serie agente speciale, è una serie basata su un club esclusivo di agenti speciali che chiamano quando la situazione non è più normale. In questo caso ovviamente Gli infallibili trae spunto dalle serie TV degli anni 60 e 70, agente speciale Gli infallibili 3, per cui come altre volte quello che mi ha forgiato da ragazzo ritorna fuori da adulto attraverso le opere che poi riproduco. Utilizzando magari degli elementi delle serie degli anni 60, però mescolandoli ovviamente con un sentire del 2024, con tematiche molto attuali e renderlo in qualche maniera attuali anche adesso. Gli infallibili troverete macismo, troverete maschilismo, troverete un passaggio di genere, di transessualità e mi chiedono come mai abbiamo messo tutto questo dentro una serie a fumetti perché è divertente mescolare e vedere che effetto che fa e lo vedrete nelle sei puntate che usciranno da qua fino a ottobre se non ricordo male. Gli infallibili